Tu come stai? Sono viva. Non ci ho chiesto a Monica Bellucci. A me non vorrei s'offendesse. Sei scemo, te l'hanno mai detto? Sì. Tutti abbiamo perso qualcuno. Non vedo la necessità di parlarne con la psicologa dell'ospedale. Tu l'hai perso più di tutti. Ma adesso sto andando da Lorenzo. Oggi è il suo compleanno. Ho fatto un po' d'ordine. In una maniera un po' diversa. Tiri fuori tutto quello che hai negli armati. Aspetta un figlio da lui. E per ogni oggetto ti chiedi? Mi dà gioia? Non mi dà gioia? E io? Dove mi hai messa? Giulia. Diciamo che a te è difficile dire addio. Mi accende. Lo ricordo tu? No. Ormai ero tu, la sua famiglia. Giulia. 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 Qualsiasi cosa tu decida, io non ci sono. Ti ho visto lavorare oggi se non vedete di scuola. No, eravamo. Mi sono detto. È stata solo una notte in me. Non possiamo incasinarci la vita. E noi non siamo solo una notte. È tutta la vita che ti cerco. Io finalmente l'ho trovata. Adesso l'ho capito. Cosa? Come mai qui lavoravo serena. Perché c'eri sempre tu con me. Sì? A solda. Sì? A presto.